Allora, sicuramente oggi avete fatto quello che non vi riusciva le altre volte, avete iniziato subito alla grande, un primo set veramente ben giocato. Sì, noi non ci siamo ancora parlati ma sono sicuro che siamo molto contenti perché era da molte partite che non riusciamo a partire così, durante la settimana ce lo siamo chiesti ogni allenamento, ragazzi dobbiamo partire subito a bomba, da partire dalla battuta, quindi siamo veramente contenti e questo è un primo step per crescere sempre di più. Avete chiuso con grandi numeri, 53% in attacco di squadra, 7 muri, 9 ace, sono veramente grandi i numeri. Sì, diciamo che ultimamente c'era mancata la battuta che oggi è andata molto bene e l'attacco, le altre partite comunque riuscivamo a fare il nostro gioco a muro difesa molto bene però non riuscivamo a mettere giù la palla e invece oggi pure difesa, soprattutto la battuta e soprattutto in attacco siamo andati giù per tutti.